Allora al momento possiamo soltanto dire che certamente non si tratta di un gesto suicidiario, si tratta quindi di una morte violenta. Le cause della morte sono ancora in corso di accertamento e allo Stato. Questo è, tutti gli scenari sono aperti. È confermato l'omicidio di una sessantenne, una donna di origini brasiliane che risiedeva in questo appartamento in via Andrea della Robbia ad Arezzo. Il cadavere si è stato trovato tramite l'intervento dei vigili del fuoco, quindi con le forze dell'ordine, sono subito intervenute. Ha dato l'allarme tramite i vicini di casa. Sono le 23.30 quando il PM Chiara Pistolesi esce dal civico 39 di via Andrea della Robbia. Qui Maria Paresida Venanzio De Sosa è stata uccisa. L'allarme per la sua sparizione era stato lanciato alle 18.30. I vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta e i sanitari del 118 hanno constatato la morte. La polizia scientifica e gli uomini della squadra mobile di Arezzo diretti da Francesco Morselli arrivano sul posto ed iniziano una meticolosa raccolta delle prove di quello che ormai è un conclamato delitto. Inizialmente si era invece pensato che la donna si fosse impiccata. Il corpo di Maria, seminudo, è stato ritrovato in camera da letto. La testa era legata con un piccolo nastro alla ringhiera del letto e il resto del corpo scivolato sul pavimento. Una grossa ferita alla testa, procurata con un corpo contundente, ma nessuna traccia di arma da fuoco o da taglio. Alla palazzina di Via della Robbia arriva anche la sorella di Maria che in lacrime chiede agli inquirenti di poterla vedere, ma non è ancora possibile. Sì, è mia sorella. Maria ha anche un marito, sarebbe stato proprio lui, vedendo che la donna non rispondeva alle sue chiamate a lanciare l'allarme tramite i vicini di casa. Spesso raccontano i testimoni la vediamo uscire con lui per andare a fare la spesa o mangiare una pizza. Lei era una donna alta, bionda, sempre sorridente, ma non c'erano legami particolari con nessuno, nonostante Maria fosse ormai da dieci anni ad Arezzo. Una fine orrenda a quella che il suo assassino le ha riservato, per la quale gli inquirenti stanno indagando principalmente nel mondo della prostituzione. Inutile nascondere quel viavai di fronte a questa palazzina che tutti i vicini confermano. Sei gli appartamenti che sarebbero tutti affittati per lo più a donne straniere. Sono stati infatti sentite anche dagli inquirenti. Leila, nome di fantasia, esce a tardanotte dalla palazzina. Sul caso di Maria non vuole dirci nulla, mentre si allontana però ci racconta. Lei abitava lì? Abito lì, per un momento. Cosa potrebbe essere? C'è drittura, siamo sottomessi a questa vita, quindi il rischio c'è, non è che non c'è, c'è. Lei è mai stata picchiata? No. No. Ci sono tanti storici, questi ragazzi, anche io, tutto c'è una storia brutta, tutti.